Salve a tutti ragazzi, io sono Bleccarlash e bentornati oggi in questo nuovo video qui su YouTube. Finalmente siamo tornati con le recensioni, era da un po' che non ne facevo una, ma non perché non avessi voglia o non avessi tempo, ma semplicemente perché non stava uscendo nulla di particolarmente interessante. Mentre adesso, tra i film riguardanti gli Oscar, questo film e anche alcuni finali di stagione, penso ad esempio The Last of Us, poi comincerà Attack on Titan, eccetera, torneranno ad esserci un po' di video, un po' di recensioni su questo canale. Detto questo, oggi vi parlerò di un film del 2023 per la regia di Peyton Reed, ovvero Ant-Man and Wasp, Quantumania. Allora ragazzi, questo è un film che, devo dire, non mi ha convinto fino in fondo, anzi, dire questo è un eufemismo perché sono più i lati negativi, secondo me, che i lati positivi di questo film. Innanzitutto io mi sono sentito ingannato dal trailer che ci hanno mostrato, perché nel trailer ci sono alcune scene, alcuni dialoghi, alcuni spunti che sembrerebbero far pensare una determinata trama che in realtà o vengono risolti in due minuti o non ci sono affatto nel film. Cioè, fare un trailer così ingannevole per tentare di portare le persone al cinema, per far sembrare quello che accade nel film un qualcosa di più grosso di quanto poi in realtà non lo sia, è secondo me una mossa di marketing molto ingannevole che personalmente mi ha dato fastidio. Certo, magari è servita proprio anche a avvivare un po' l'interesse nelle persone che, dopo gli ultimi film Marvel, sicuramente avevano perso un po' di hype per i successivi prodotti, però allo stesso tempo ingannare così il pubblico può essere controproducente, perché adesso è chiaro che tutti i trailer che usciranno da qui in avanti verranno presi molto con le pinze, visto l'inganno che hanno portato con questo trailer. Poi anche dal punto di vista dell'impatto sull'MCU, questo film non mi sembra essere abbastanza potente, cioè se da una parte secondo me la fase 4 non si è mai chiusa davvero, perché insomma Black Panther Wakanda Forever non era una vera e propria chiusura della fase 4, abbiamo lo stesso problema con l'apertura della fase 5, cioè non mi sembra un film di apertura, mi sembra un qualsiasi film generico dell'MCU che può andare bene, ovunque praticamente nella continuity, quindi insomma da questo punto di vista è un po' debole, però è comunque un film che intartiene, le due ore passano in maniera abbastanza leggera, se andate in gruppo a vederlo dal cinema sono sicuro che vi fate delle risate, perché insomma il lato comico è un qualcosa su cui ci hanno puntato molto, nel senso è comunque un film di Ant-Man, quindi ci sta che ci siano battute e robe varie, però in alcuni casi sono eccessive, è una roba che non sottolineo quasi mai nelle recensioni dei film Marvel, perché insomma ci hanno abituato così dal primo film, però in alcuni casi va detto quando il troppo è troppo. Se avremmo avuto un eccesso in Love and Thunder, qui non c'è d'altra parte un eccesso, però ci sono un po' di battute di gag, se vogliamo, fuori luogo, fuori contesto e anche alla lunga ridondanti, per cui sì ci sono delle battute ben riuscite, delle gag che si protagono nel film che hanno il loro senso, però d'altra parte c'è anche un po' di esagerazione in questo senso. Parlando invece un po' dei personaggi di questo film, anche qui c'è un po' di debolezza, nel senso Ant-Man non sembra essere il protagonista, perché ci sono cinque personaggi che sembrano avere tutti quanti più o meno la stessa importanza, e sono Ant-Man, Cassie Lang, sua figlia, Wasp, interpretata da Evangeline Lilly, Janet e Hank Pym. Ora, è chiaro che se hai un pool di personaggi così vasto da gestire, rischi che si viene un po' a creare quello che poi è successo nel film, e cioè che non hai un vero protagonista, ma che allo stesso tempo ti sembrano tutti dei comprimari. Tutto ciò che i personaggi fanno non sembra mai avere un guizzo, cioè il film è piatto, partiamo da questo presupposto, il film è piatto, non c'è mai un vero e proprio plot twist, un'evoluzione di qualche personaggio, un guizzo registico della musica, un jumpscare, nulla, è totalmente piatto questo film, e questo si ripercuote anche nei personaggi, cioè fanno tutti delle azioni che magari sì sono importanti al loro modo nei fini della trama, ma non sembrano fare, soprattutto Ant-Man, non sembra fare nulla davvero protagonista, cioè ci fosse stato Ant-Man, non ci fosse stato Spiripicchio al suo posto, sarebbe stato esattamente lo stesso. Un po' mi dispiace perché poi c'è una dinamica che hanno portato per tutto quanto il film tra Cassie e Scott, in cui Cassie incolpa Scott per il fatto che è rimasto nel legno quantico, lei ha vissuto cinque anni da sola, bla bla bla, una colpa che Scott chiaramente non ha perché, poverino, non è colpa sua se era rimasto bloccato lì, d'altra parte Scott incassa, sta zitto e nulla. Cioè, è una dinamica che va a svalorizzare il personaggio di Scott, va a renderti detestabile il personaggio di Cassie e non porta a un'evoluzione di nessuno dei due. Poi, il Wasp di Evangeline Lilly io penso che abbiano tagliato delle parti dopo le sue dichiarazioni riguardanti il Covid, perché non c'è altra spiegazione che nel titolo si trovi And the Wasp, vicino ad Ant-Man, quando lei è praticamente una macchietta in tutto il film. Cioè, io sono sicuro che gli hanno tagliato delle parti, gli hanno rigirato delle scene, perché è impossibile che tu metti nel titolo Ant-Man and the Wasp e Wasp poi è una macchietta ancora più degli altri, cioè, penso che le abbiano ridimensionato un po' il ruolo. D'altra parte poi abbiamo Janet e Hank, che sono due decerebrati, cioè, ma davvero, perché Hank Pym, nei primi due film, io l'ho apprezzato tantissimo, era quello scienziato geniale, sarcastico, che a tatti ti sta sulle palle, ma che non puoi non amare, che in questo film perde, cioè, l'ho fatto troppo cazzone, secondo me. Ok che magari adesso ha un legame più padre-figlio, tra virgolette, con Scott, eccetera, ma non giustifica il fatto che sia diventato meno geniale e più stupido, cioè, non più stupido, ma più sarcastico, ancora di più, che insiste con queste battute, con queste robe, ma perde molto della sua serietà. D'altra parte Janet, io non mi capacito come faccio un personaggio ad essere così stupido, che vive trenta lunghissimi anni nel legno quantico, vede tutto quello che c'è da vedere nel legno quantico, torna e si sta zitta. Cioè, io posso capire tutto, no? Il trauma, il... che poi vabbè, di trauma neanche si può parlare, in questo caso, la riservatezza, tutto quello che vuoi, ma... sei veramente stupido, cioè, è un personaggio veramente stupido se fai una cosa del genere. Poi abbiamo Kang, il villain. A me Kang ha convinto in questo film. Ho sentito che molti non l'hanno apprezzato, non sono stati pienamente soddisfatti. Io invece devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da Kang. Sembra effettivamente un villain minaccioso, duro, anche piuttosto violento nei suoi modi, con i suoi poteri. Sembra uno con le palle, cioè, potente, che non si fa, diciamo, almeno non si dovrebbe far battere. In poco, con poco. E dice anche delle cose che rafforzano questa sua tesi. E' chiaro che Kang non è un bugiardo, quindi alcune cose che dice, come non è spoiler, perché comunque già si intuiva un po', e soprattutto se avete visto Loki, sapete, ha ucciso tante varianti delle Avengers, per esempio Kang. Quindi, comunque, ti fa capire che è un personaggio molto potente, molto importante e imponente allo stesso tempo. Viene caratterizzato in questo modo, però, anche qui, l'interpretazione in generale è meglio se buona. Se ho preferito quella di Mortus in Loki, è perché qui, secondo me, c'era Rene Ferrette a dirigerlo, che gli diceva di fare le faccette, perché altrimenti non si spiega. Però, è un po' sopra le righe, diciamo. Se lì il personaggio te lo consentiva, qui era un Kang diverso, lo consentiva un po' meno, però lui è ugualmente un po' sopra le righe, ma ci sta, tutto sommato. Non mi è piaciuta la chiusura, cioè non può un personaggio che te lo presentano così potente avere il power level così sballato poi sul finale. Cioè, non mi capacito di come sia potuto finire in quel modo la storia di Kang in questo film. D'altra parte poi c'è Modok, e ragazzi, Modok è terrificante, cioè, è aberrante, non è terrificante, cioè, fa schifo. Ne hanno fatto quell'effetto sterciato, che praticamente quando voi prendete una foto e la allargate per i puntini laterali anziché per il puntino quello in alto a sinistra, no? O in alto a destra. Quando allargate una foto lateralmente l'adattate su un faccione gigante. Cioè, questo è modo che è inguardabile, è esteticamente inguardabile, è caratterizzato ancora peggio. Cioè, lo insulta anche Cassie Lang. Anche Cassie Lang gli dice che è letteralmente un cazzone. Quando lui... Non dovrebbe essere così. Cioè, neanche il personaggio originale era così. Non dico quello dei fumetti, ma il personaggio che è diventato Modok. Cioè, veramente... Non capisco perché l'abbiamo caratterizzato in quel modo. Bastava che fosse semplicemente un macchinario, un macchinengio, senza una persona all'interno, aveva risolto il problema, secondo me. Non rischiavi soprattutto di incorrere in una caratterizzazione così becia. Poi, è un film, secondo me, stra pieno di errori, di buchi di trama, di cose che non tornano, ed è per questo che io non riesco ad apprezzarlo. Cioè, di questo ne parleremo nella live di giovedì sera del Telepub Nerd su Twitch con gli altri ragazzi, perché sia perché non voglio fare spoiler in questo video, e sia perché parlarne senza spoiler dei vari errori che ci sono in questo film, tra buchi di trama, incomprensioni, incoerenze, retcon e cose non spiegate, ci dovrei mettere tre ore di video, e sinceramente, non ho neanche tutta questa voglia di farlo. Quindi, sui buchi di trama ne parliamo su Twitch giovedì sera, mentre, una cosa che posso dirvi è che il lato tecnico lascia un po' a desiderare. Cioè, è un film che per il 99% del tempo è tutto in CGI, è tutto in green screen, ma in alcuni momenti si vede che c'è il green screen. Cioè, i paragoni che sono stati fatti con alcune scene, con Spy Kids 3, se non sbaglio, sono reali. Cioè, il livello di qualità, non dico che sia quello, però, in alcuni casi, tu vedi che dietro i personaggi c'è un green screen. Vedi che quel personaggio in CGI, vedi che, anche in alcuni momenti, io ho avuto questa impressione, ma non lo so se sono stato solo io, se effettivamente è così. Anche i personaggi principali, come Antman, Warspa, eccetera, mi sembravano scontornati male e attaccati male sul green screen. Cioè, hanno fatto un po' di cagate con la CGI, e certo capisco che il budget è quello, se devi fare il 99% del film in CGI, in qualche momento devi avere pure dei crolli, però ci sono dei crolli, secondo me, troppo importanti. Poi, chiaro, è comunque un film Marvel, la Marvel ci sta un po' disabituando alla qualità. Cioè, se prima comunque manteneva, parlo più o meno da Age of Ultron, diciamo dalla fase 2 fino a Endgame, ha mantenuto visivamente una certa qualità, dalla fase 4 in poi sta tornando un po' a calare, come anche si sta riappiattendo il genere, che se prima si era un po' sfaccettato in vari film con varie sfaccettature, penso, Winter Soldier, un thriller politico, un action, Ant-Man, quello magari più love story, Spider-Man, quello più teen, cioè, adesso sembra che sta tornando agli origini, film super eroristico, piatto, fine. E un po' questo mi dispiace. Comunque, io vi invito a dirmi qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di Ant-Man and the Wolf Quantumania, vi invito a seguirmi su Instagram dove posto recensioni e su Twitch dove invece faccio live di diversi contenuti, a proposito giovedì con gli altri ragazzi del Telepub Nerd parleremo proprio con spoiler di Ant-Man e nulla, vi invito a lasciare un like, un commento, una condivisione se vi va e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!